Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. In questa lezione vediamo come realizzare una crostata di frolla montata salata con scamorza e prosciutto cotto. Ok, vedete il burro è solo miscelato, non è montato. Ok, a questo punto dobbiamo tirare le altre strisce e si parte in questo modo qua. Dobbiamo arrivare quindi qua all'estremità, quindi tiriamo una striscia così. La lezione per la crostata di frolla montata salata, scamorza e prosciutto cotto è terminata. E ci vediamo alla prossima lezione. Ciao! Ciao!